Ho visto con piacere che riusciamo a risolvere anche delle questioni che sono proprio specifiche dell'Abruzzo, che come sappiamo in particolare è stato interessato da questi eventi sismici terribili, quindi ci occupiamo con successo dei rapporti e delle questioni che riguardano specificamente il posto in remoto, facilitando l'interlocuzione tra i comuni e gli uffici che sono preposti alla gestione di queste problematiche, tutto va bene. Le specificità sono tante, sono tante e devono essere tutte quante risolte caso per caso, ma riusciamo a farlo. Il difensore civico viene chiamato in causa, ha delle competenze, le applica e se ne occupa. Se ne occupa nell'ambito dell'attività riservata dalla legge, se ne occupa per il tramite delle commissioni miste conciliative che adesso la Regione Abruzzo sta provvedendo a riavviare, potrebbe occuparsene di più e meglio, ed è auspicabile che questo avvenga, se la Regione Abruzzo deciderà di nominare il difensore civico garante del diritto alla salute, usufruendo la possibilità che gli è demandata dall'articolo 2 della legge 24, dalla cosiddetta legge Gelli. È una chance che alcune Regioni in Italia hanno sfruttato, so che l'argomento è anche all'ordine del giorno della conferenza dei Presidenti dei Consigli regionali e il Consiglio regionale ha, tra le altre cose, l'opportunità di decidere su questa facoltà e noi speriamo che possa sfruttarla perché è una chance da non lasciar perdere per migliorare gli standard di vita dei cittadini abruzzesi. Il difensore civico è un'attività che soprattutto si muove sulla base della moral suasion, con l'istituzione di questa legge, attribuendo specifici poteri di intervento, poteri di ispezione, tanto per dirne uno ad esempio, ovviamente le possibilità di intervento sarebbero maggiori e più efficaci.